Care sorelle e fratelli all'ascolto, oggi in questa domenica speciale ricordiamo di non essere soli e distanti, perché unite e unite nello Spirito Santo e alla presenza di Dio. Proclamiamo la nostra lode a Dio pregando con le parole del Salmo 104, i versetti dal 27 al 30. Tutti quanti sperano in te, perché tu dia loro il cibo a suo tempo. Tu lo dai loro ed essi lo raccolgono. Tu apri la mano e sono saziati di beni. Tu nascondi la tua faccia e sono smarriti. Tu ritiri il loro fiato e muoiono, ritornano nella loro polvere. Tu mandi il tuo spirito e sono creati. E tu rinnovi la faccia della terra. O Signore, fa che, come il salmista, impariamo a non dare nulla per scontato. Come il salmista, oggi vogliamo rivolgere a te una preghiera di lode, certi e certe, che il tuo Spirito rinnoverà le nostre vite. Amen. Proseguiamo la nostra preghiera con l'Indo 169. Lode all'Altissimo, lode al Signor della gloria. Nelle dei secoli noi celebriamo la vittoria. lode all'Altissimo, l'Amico. Lode all'Altissimo, l'Altissimo che haумato. sovra di dati e la salvi noi tutti apportati e nel sostegno, poiché ad ognuno conviene di camminare col suo aiuto l'odio all'artissimo re della grazia infinita tutto è di donarci forza, benessere e vita non è il dono, non ci abbandona il Signore che il mondo è Cristo salvato Cari fratelli e care sorelle dell'ascolto, anche oggi la lettura biblica è tratta dal libro degli Atti al capitolo 2, versetti 1-21 quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove erano seduti apparvelo loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi or, a Gelusalemme soggiornavano dei Giudei uomini religiosi di ogni nazione che c'è sotto il cielo quando avvenne quel suono la folla si raccolse e fu confusa perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua e tutti stupivano e si meravigliavano dicendo tutti questi che parlano non sono Galilei come mai li udiamo parlare ciascuno nella propria lingua natia noi parti, medi e lamiti abitanti della Mesopotamia della Giudea e della Cappadocia del Ponto e dell'Asia della Frigia e della Panfilia dell'Egitto e delle parti della Libia Cirenaica e pellegrini romani tanto Giudei che Prosediti Cretesi e Arabi gli udivano parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue tutti stupivano ed erano perplessi chiedendosi l'un l'altro che cosa significa questo ma altri li deridevano e dicevano sono pieni di vino dolce ma Pietro levatosi in piedi con gli undici alzò la voce parlò loro così uomini di Giudea e voi tutti che abitate in Gelusalemme vi sia noto questo e ascoltate attentamente le mie parole questi non sono ubriachi come voi supponete perché è soltanto la terza ora del giorno ma questo è quanto fu annunciato per mezzo del profeta Gioele arriverà negli ultimi giorni disse Dio che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno i vostri giovani avranno delle visione e i vostri vecchi sogneranno dei sogni anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni spanderò il mio spirito e profetizzeranno farò prodigio su nel cielo e segni giù sulla terra sangue, fuoco e vapore di fumo il sole sarà mutato in tenebre la luna in sangue prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore arriverà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato il Signore benedica la lettura della sua parola carissime sorelle e carissimi fratelli all'ascolto vorrei cominciare il sermone con una domanda cosa cerchiamo in questo famoso racconto? ve lo chiedo perché possa solo immaginare quante volte lo abbiate sentito e posso supporre che lo sappiate quasi a memoria se è così la mia domanda è legittima cosa può ancora dirci? ogni volta che abbiamo riascoltato questo testo abbiamo imparato che i nostri discepoli non erano ubriachi che lo spirito è sceso su di loro e che ogni persona che era lì poteva udirli nella propria lingua potremmo anche e forse giustamente dubitare di questo racconto in fondo noi lo spirito non lo abbiamo mai visto e obiettivamente alle persone che hanno le visioni consigliamo di andare dallo psicologo allora davvero questo racconto potrebbe sembrare solo un racconto edificante per le prime comunità cristiane sembra una giustificazione attraverso un racconto della discesa dello spirito della presenza delle comunità cristiane in un tempo nel quale nella migliore delle ipotesi erano una cosa poco comune e nella peggiore erano perseguitate mi chiedo se noi ora come ora abbiamo ancora bisogno di un racconto come questa noi l'esperienza cristiana la viviamo tutte le domeniche in tutti i culti e in tutta la nostra vita perché parlarne ancora? mi chiedo poi se serva davvero parlare di uno spirito che discende per legittimare la nostra fede se stai ascoltando questo culto è perché sei certo e certa che lo spirito di Dio sta accompagnando sia te che ascolti sia me che predico e non hai certamente bisogno di sentirtelo raccontare perché lo stai vivendo eppure questa storia è ancora lì e viene raccontata e raccontata ancora l'obiettivo del testo allora non è solo raccontare lo spirito di Dio che accompagna le nostre vite questo lo sappiamo noi e lo sapevano benissimo anche i cristiani della chiesa primitiva ma dirci come la chiesa di Cristo dovrà essere la Pentecoste è il manifesto fondativo potremmo dire così della chiesa cristiana da questo testo capiamo che la chiesa cristiana non è una chiesa individualista è una chiesa collettiva lo spirito infatti si manifesta prima ad ogni singolo discepolo con una lingua di fuoco ma poi ad una folla la forza dello spirito non può rimanere rinchiusa nel privato della propria anima il cambiamento che ci chiede Dio quindi non è solo intimo ma anche pubblico testimoniale non solo da quanto leggiamo possiamo capire che la chiesa cristiana non si fonda su un guru uno dal quale pendere dalle labbra la chiesa cristiana è di tutti e tutte noi perché è legittimata dallo spirito santo non sono le nostre belle parole i nostri discorsi edificanti che fanno la chiesa questa è costruita piuttosto su quanto riusciamo a far parlare Dio nei nostri sermoni ma forse prima di tutto nella nostra vita la chiesa che immagina il libro degli atti e degli apostoli poi è una chiesa aperta a tutti e a tutte nella quale ognuna ed ognuna di noi possono essere ciò che è nel nostro testo infatti ogni persona presente alla Pentecoste può dire il messaggio nella propria lingua natia nella comunità immaginata dal nostro testo la chiesa cristiana è accogliente perché sa che parlare in una lingua sacra magari più importante delle altre non è il vero cambiamento perché sa che il cambiamento non sta nell'imparare a memoria un rituale perché sa che la diversità se da un lato complica le cose dall'altro arricchisce perché sa invece che il cambiamento vero sta nella testimonianza nel confronto con l'altro e l'altra che incontriamo per strada se leggiamo bene il testo in effetti non troviamo nessuna frase di scherno da parte dei discepoli nei confronti di coloro i quali li tacciano di essere ubriachi anzi la loro relazione viene usata per rafforzare il messaggio divino addirittura citando il profeta Gioele dunque la Pentecoste è il giorno in cui i singoli credenti possono cominciare a parlare e la Chiesa può rendersi palese al mondo la Pentecoste è il giorno in cui ogni singolo credente sa che ciò che dirà non è farina del suo sacco ma frutto della grazia e la Chiesa imparerà che potrà esistere anche senza me e te senza quel bravo pastore o quella brava pastora quella geniale interpretazione biblica quella determinata organizzazione perché tutti siamo utili ma nessuno indispensabile tranne lo Spirito di Dio la Pentecoste è quel giorno in cui ogni uomo e ogni donna imparerà che non c'è un modo più giusto e uno meno per essere buoni e buone cristiane e cristiani ma che ognuno a modo suo può contribuire a rendere più bella la sua comunità e la Chiesa imparerà che giudicare non è così semplice anche se a volte ci fa sentire al sicuro la Pentecoste è quel giorno dove ognuno ed ognuna di noi deve avere il coraggio di confrontarsi con tutti i compagni e le compagne di viaggio che incontra per strada anche se ci sembrano scomodi e fastidiose e la Chiesa imparerà a non ergersi su un piedistello ma piuttosto a farsi interrogare dal mondo come i discepoli della nostra storia nella Pentecoste allora lo spirito disceso su di noi e sui discepoli ci fa parlare come non sapremo ascoltare come non ci sembra possibile e diventare accoglienti come non pensavamo fosse possibile ecco perché è importante raccontare ancora la Pentecoste per ricordarci chi possiamo essere e diventare se solo ci facciamo guidare dallo spirito ma come tutte le grandi cose la Pentecoste non è solo un grande dono ma anche un grande impegno vivere con lo spirito al nostro fianco avere la forza di ascoltare di testimoniare di parlare al mondo non ci deve rendere vanitosi troppo sicuri di noi nel suo discorso Pietro avrebbe potuto ribadire la superiorità dello spirito e dell'esperienza della vita con Gesù ma non lo fa sceglie un'altra strada quella del confronto così appare chiaro che l'umiltà è la vera chiave per apprezzare e vivere la forza dello spirito che da ora dimorerà nella nostra vita cara sorella e caro fratello dalle parole di Pietro possiamo imparare che la vera forza di Dio sta nell'umiltà ma non in quell'umiltà sottomessa in quell'umiltà che si nasconde Pietro qui parla ad alta voce l'umiltà di Pietro è quell'umiltà che permette di ascoltare tutte e tutti proprio perché siamo sicuri e certi della strada che abbiamo intrapreso raccontare e riraccontare ancora la Pentecoste serve non solo per ricordarci che Dio è vivente e che con il suo spirito anche se invisibile è sempre con noi raccontare e riraccontare ancora Pentecoste serve forse soprattutto per ricordare a noi tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle che con l'aiuto di Dio possiamo fare grandi cose e che forse la più grande di tutte è quella di sapere ascoltare quelli e quelle che incontriamo per strada rimanendo testimoni di ciò che siamo figli e figlie di Dio Amen Ci raccogliamo in preghiera con l'inno 148 Vieni in mezzo a noi Dio liberatore ci raccogliamo in tutte il tuo grande amore non lasciarci in più poterà tempestà ogni don è festa se toglie sei tu Se tu vuoi, Signor, sia tuoi testimoni, anche il nostro corpo tu vuoi rinnovare. Nella tua bontà, dacci un'alvenire, anche il nostro agire, tuoi attegarai. Dacci il credente, Dio della speranza, ogni nostro dì, siamo per la danza. Dice il credente, tu puoi rascomare, il nostro agire, il fraternità. O Dio, accogli le nostre preghiere che timidamente ti rivolgiamo con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo e anche in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo i nostri debitori e non esporci alla tentazione ma liberaci dal male Tu è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli Amen Fratelli e sorelle ci raccogliamo in preghiera per accogliere la benedizione Aiutaci oh Signore affinché le parole dette e le preghiere fatte siano davvero frutto del tuo spirito in mezzo a noi dunque con la certezza del perdono e la vicinanza di Dio come ci insegna Gesù andate per tutto il mondo predicate il Vangelo ad ogni creatura con questo impegno scolpito nei nostri cuori ci benedica il Dio della libertà della pace e della giustizia nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen Buona Domenica di Pentecoste e buona settimana Buona Domenica di Pentecoste